Lo sport vissuto alla ricerca del limite, fisico e psicologico. La fatica come strumento per tagliare nuovi traguardi e raggiungere obiettivi sempre più estremi. Icarus vi racconta le emozioni degli atleti votati alle sfide più difficili. E lo fa attraverso le loro immagini e i loro racconti, raccolti sul campo. Nell'ultimo chilometro siamo saliti circa 480 metri, spendenza del 48%. Le più moderne tecnologie di ripresa catturano l'avventura dei nostri inviati e la portano sugli schermi di Sky Sport. I protagonisti di Icarus parlano con il linguaggio semplice e immediato dell'azione, tradotto in un magazine tv dedicato agli amanti dell'endurance e dell'outdoor. L'adrenalina è un fattore importante, è fondamentale.